un super mega show di monstros il tempo della diversione preparen il escenario sarà una mostruosa visione magica per la diversione un super mega un show di monstros ora tendremo la prima pelea la qual sarà il partecipante Dao Pai Pai contro il partecipante Tenshinhan ambos passen a la plataforma derrota a ese robot che non serve per nada si lo fare tu puoi!